E' mai capitato che qualcuno del passato tornasse a bussare alla porta del tuo cuore? Non è forse vero che proprio quando pensavamo di essere guariti, scopriamo che ci sono ancora ferite aperte. Rimanete con noi, perché oggi esploreremo insieme come affrontare e trasformare questi dolori del passato in forza per il nostro futuro. In un tempo non troppo lontano, si viveva una situazione simile. Una persona, creduta pilastro della propria vita, si rivelò invece fonte di grande dolore. Questo episodio ha condotto a un percorso di ricerca spirituale e guarigione emotiva, che ora si desidera condividere. Continua a guardare fino alla fine del video per scoprire come anche te puoi trasformare il dolore in potere, integrando le energie maschili e femminili per un cammino di guarigione e rinnovamento. Oggi sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale per continuare insieme il nostro viaggio spirituale. Il viaggio per comprendere il dolore emotivo inizia tuffandoci nelle profondità delle nostre esperienze passate, quelle memorie spesso celate dietro le quinte della nostra mente quotidiana, ma che continuano a influenzare il nostro modo di vivere e di relazionarci con gli altri. Le relazioni passate, in particolare, giocano un ruolo cruciale in questo scenario, poiché ogni interazione significativa che abbiamo avuto può lasciare un'impronta duratura sulla nostra anima. Ogni relazione che viviamo, sia essa amorosa, amicale o familiare, porta con sé un bagaglio di emozioni, insegnamenti e ferite. Queste esperienze, soprattutto quelle che hanno comportato del dolore, come tradimenti, incomprensioni o separazioni dolorose, si sedimentano nei recessi più intimi del nostro essere. Capire queste dinamiche è essenziale non solo per guarire le ferite ancora aperte, ma anche per imparare a instaurare relazioni future più sane e consapevoli. La nostra vita presente è spesso una mappa composta da strade tracciate in passato. Le relazioni che abbiamo vissuto influenzano le nostre aspettative, le nostre reazioni e anche la nostra visione del mondo. Ad esempio, una persona che ha vissuto un abbandono significativo in passato potrebbe sviluppare meccanismi di difesa che lo portano a tenere gli altri a distanza, per paura di rivivere quel dolore. Questa barriera, sebbene protettiva, può anche impedire la formazione di legami autentici e profondi. Il nostro percorso spirituale è intrecciato con le esperienze emotive. La spiritualità fornisce contesto e strumenti per elaborare queste ferite, esplorare le emozioni e scoprire significati più profondi nelle esperienze. Pratiche come meditazione e preghiera facilitano un dialogo interiore per riconciliarsi col passato e ritrovare la pace interiore. Comprendere le origini del dolore emotivo e il suo impatto è essenziale per una maggiore autocomprensione e una guarigione autentica. Questo processo libera da catene invisibili, permettendo di avanzare con leggerezza e saggezza, accogliendo nuove relazioni ed esperienze con un cuore aperto e rinnovato. Nel vasto universo delle dinamiche umane, l'equilibrio tra l'energia maschile e femminile gioca un ruolo fondamentale nel modellare le nostre interazioni, percezioni e reazioni. Ogni individuo, a prescindere dal genere, ospita una fusione di queste energie, che possono essere descritte come qualità o forze complementari che influenzano profondamente la nostra vita interiore ed esteriore. L'energia maschile è spesso associata alla razionalità, all'azione, alla determinazione e alla forza. È l'energia che ci spinge a prendere iniziative, a stabilire obiettivi e a confrontarci con il mondo esterno. D'altra parte, l'energia femminile è legata all'intuizione, alla ricettività, all'empatia e alla cura. Essa guida la nostra capacità di ascolto, di connessione emotiva e di accoglienza. La distorsione di queste energie può originarsi da una varietà di cause, inclusi l'educazione, i traumi e gli stereotipi culturali che spesso impongono modelli restrittivi di comportamento. Ad esempio, una sovraespressione dell'energia maschile può portare a comportamenti aggressivi o eccessivamente assertivi, mentre una sovraespressione dell'energia femminile può risultare in passività o dipendenza emotiva. Allo stesso modo, la repressione di una di queste energie può causare squilibri interni e difficoltà nelle relazioni personali e professionali. Il riconoscimento e la gestione di queste energie sono essenziali per la nostra salute psicologica ed emotiva. In molte esperienze passate, le relazioni possono essere state segnate da una cattiva gestione di queste forze. Situazioni in cui l'energia maschile ha dominato possono aver lasciato poco spazio all'espressione emotiva e alla vulnerabilità. Oppure contesti in cui l'energia femminile era sovrabbondante possono aver creato dinamiche di eccessiva emotività e scarsa risoluzione dei conflitti. Per iniziare a guarire, è cruciale sviluppare consapevolezza di come le energie operano in noi e nelle interazioni altrui. Meditazione, riflessione e terapia aiutano a esplorare e bilanciare queste energie. Accettare che entrambe le energie siano vitali e possano coesistere armoniosamente ci permette di vivere in modo più completo. Riconoscere quando un'energia è soverchiante o insufficiente ci aiuta ad apportare i necessari aggiustamenti per il nostro benessere e quello altrui. Confrontarsi con il proprio passato e percorrere il cammino del perdono rappresenta una delle sfide più intense e trasformative della vita umana. Questo processo, carico di vulnerabilità e introspezione, non solo testa i confini del nostro cuore ma solleva anche questioni profonde riguardo la nostra capacità di cambiamento e rinnovamento interiore. Il perdono è spesso frainteso come un atto di dimenticanza o di concessione nei confronti di chi ci ha fatto del male. Tuttavia, nella sua essenza più pura, il perdono è un atto di liberazione personale. È il processo di lasciare andare il fardello del risentimento, che spesso ci imprigiona più delle azioni o delle parole che hanno originato tale sentimento. Il peso psicologico del risentimento può essere schiacciante. Rabbia, tristezza e un senso di ingiustizia possono consumare i nostri pensieri e influenzare ogni aspetto della nostra vita quotidiana, dal benessere fisico alle relazioni interpersonali. Inoltre, il risentimento può incatenarci a un passato che non possiamo cambiare, impedendoci di vivere pienamente il presente e di guardare con speranza al futuro. Dal punto di vista spirituale, il perdono è un atto di profonda umiltà e compassione. È un riconoscimento del fatto che tutti siamo fallibili e che l'errore è parte integrante dell'esperienza umana. Perdonare significa comprendere queste imperfezioni, sia nelle altre persone sia in noi stessi, e accettare che il percorso di crescita personale è spesso disseminato di ostacoli e errori. La pratica del perdono inizia con l'accettazione del dolore. Dobbiamo prima ammettere e sentire pienamente il torto subito. Questo non significa giustificarlo, ma piuttosto permetterci di elaborare le emozioni legate a esso. Successivamente, è cruciale esplorare i nostri sentimenti e riflettere su come il mantenere il risentimento, influenzi la nostra vita. Il perdono ci libera permettendoci di riprendere il controllo su noi stessi. Il risentimento ci rende dipendenti da chi ci ha ferito. Il perdono ci restituisce la libertà di definire la nostra esistenza, liberi dagli eventi passati. Il cammino del perdono rinnova anche la nostra identità spirituale, scoprendo nuove capacità di amore, compassione e comprensione, elevando la nostra vita a nuovi livelli di consapevolezza e connessione umana. Ciò non solo favorisce la nostra guarigione, ma aiuta anche a riparare e costruire relazioni su basi più solide. La trasformazione del dolore in forza e adattabilità è un processo profondo che invita non solo alla guarigione, ma anche alla rinascita del sé. Integrare il concetto del divino femminile in questo percorso può amplificare la nostra capacità di nutrire e rigenerare il nostro spirito, guidandoci verso una nuova comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Il divino femminile è una forza universale che rappresenta le qualità di cura, accoglienza, intuizione e connessione con la natura e il ciclo della vita. Queste caratteristiche, spesso trascurate in una società che valorizza l'azione e la competitività, attributi tipicamente associati all'energia maschile, sono fondamentali per un equilibrio sano tra mente, corpo e spirito. Quando sperimentiamo il dolore, sia esso fisico, emotivo o spirituale, la tendenza iniziale può essere quella di chiuderci o di lottare contro di esso. Tuttavia, il divino femminile ci insegna l'importanza dell'accettazione e della trasformazione. Attraverso l'accettazione, possiamo permettere al dolore di manifestarsi e di esprimersi, senza sopprimerlo. Questo atto non solo allevia la sofferenza, ma apre anche la porta a una profonda guarigione interiore. L'adattabilità arriva quando impariamo a fluire con le circostanze piuttosto che opporci ad esse. Il divino femminile, con la sua connessione intrinseca con i cicli naturali di crescita e declino, ci insegna che ogni fine è anche un nuovo inizio. Così come la terra si rigenera dopo ogni stagione, anche noi possiamo trovare nuove forze e rinnovare la nostra energia spirituale attraverso le lezioni apprese dal dolore. Nutrire il nostro spirito con le qualità del divino femminile significa anche creare spazi di silenzio e riflessione nella nostra vita. Momenti dedicati all'ascolto della nostra intuizione e alla connessione con l'universo. Questi momenti di quiete sono essenziali per riconoscere i bisogni della nostra anima e per dare spazi alla creatività e alla visione che emergono dal nostro io più profondo. Il divino femminile ci riconnette alla capacità di amare e essere amati incondizionatamente. Spesso il dolore nasce o si perpetua in relazioni interrotte o difficili. Riscoprire l'amore incondizionato, verso noi stessi e gli altri, può trasformare il dolore in una forza di connessione e riconciliazione. Mantenere un equilibrio tra le energie maschili e femminili è essenziale per il nostro benessere complessivo. Queste energie, quando in armonia, non solo influenzano positivamente la nostra salute mentale ed emotiva, ma arricchiscono anche la nostra esistenza, permettendoci di vivere con una pienezza che abbraccia tutte le sfaccettature del nostro essere. Le energie maschili e femminili, come già noto, non sono confinate a generi specifici. Invece, ciascuno di noi possiede una miscela unica di queste forze dinamiche. La meditazione è efficace per ristabilire e mantenere l'equilibrio energetico. Permette di accedere a uno spazio di quiete, attenuando le distrazioni esterne e ascoltando la voce interna. Questa pratica aiuta a osservare senza giudizio le inclinazioni verso l'energia maschile o femminile e identificare le aree di squilibrio. La mindfulness, o consapevolezza, è fondamentale. Essere presenti nel momento, consci dei pensieri, emozioni e sensazioni fisiche, senza reazioni automatiche. Questo stato di consapevolezza facilita il riconoscimento degli squilibri energetici e guida verso modifiche consapevoli. Una routine quotidiana di mindfulness può includere respirazione consapevole, body scan o meditazioni guidate, focalizzate su accettazione ed equilibrio interiore. Questi esercizi calmano la mente, riducono lo stress e favoriscono una comprensione profonda di sé. L'autoosservazione è un altro strumento per mantenere l'equilibrio energetico. Monitorare le reazioni quotidiane rivela il nostro stato energetico. Ad esempio, potremmo notare che sotto stress tendiamo a dominare gli altri, un tratto maschile, o ci ritiriamo e chiudiamo, un tratto femminile. Riconoscendo questi schemi, possiamo lavorare attivamente per modulare la nostra risposta, cercando un'azione più bilanciata. I rituali e le cerimonie sono da sempre strumenti potenti di trasformazione e guarigione spirituale, capaci di connetterci con dimensioni più profonde dell'esistenza. Attraverso atti simbolici e l'uso intenzionale di elementi naturali e parole, questi rituali ci aiutano a trascendere il quotidiano, a trovare significati più ampi e a riaffermare il nostro posto nel tessuto dell'universo. Un rituale può essere semplice come accendere una candela e meditare sulla propria luce, oppure può essere complesso, coinvolgendo canti, danze, offerte e preghiere. L'essenziale è che il rituale abbia un significato personale profondo e che sia eseguito con un'intenzione chiara. Ad esempio, un rituale per la guarigione emotiva potrebbe includere la scrittura di lettere di perdono da bruciare in un fuoco sacro, simboleggiando il rilascio del dolore e delle vecchie energie. I rituali di purificazione, come l'uso di acqua o fumo di erbe sacre come la salvia, possono aiutare a pulire lo spazio fisico e spirituale, liberando l'ambiente da energia stagnante o negativa, facilitando un nuovo inizio. Questi atti, quando ripetuti con regolarità, non solo rafforzano la nostra forza interiore spirituale, ma creano anche un senso di sicurezza e appartenenza che è fondamentale per il benessere emotivo. L'astrologia aiuta a comprendere le dinamiche nascoste della vita. Gli astri riflettono sfide e opportunità di crescita. Per esempio, il transito di Saturno segnala un periodo di impegno, mentre gli aspetti di Venere enfatizzano amore e relazioni. Utilizzare l'astrologia per la crescita personale significa allinearsi ai ritmi cosmici, riconoscendo lezioni e benedizioni, e navigare la vita con maggiore consapevolezza. Un astrologo può interpretare questi transiti e suggerire rituali per armonizzarsi con le energie planetarie, favorendo guarigione e sviluppo personale. Combinando rituali e astrologia si ottiene un potente strumento. Ad esempio, un rituale di luna nuova consapevole delle configurazioni astrologiche può essere ideale per fissare intenzioni o iniziare nuovi progetti. Questo approccio olistico arricchisce la pratica spirituale e facilita un cammino di vita più armonioso. Integrare elementi naturali e cristalli nelle routine quotidiane potenzia la guarigione emotiva e spirituale, riallineandoci al ritmo terrestre e rinvigorendo corpo e mente. Gli elementi naturali, terra, aria, acqua, fuoco, creano un ambiente equilibrato. Terra. Camminare a piedi nudi su erba o terra riduce stress e stabilizza emotivamente. Aria. Esercizi di respirazione all'aperto migliorano la chiarezza mentale e diminuiscono l'ansia. Acqua. Bagni di sale marino o il suono dell'acqua fluente calmano e purificano. Fuoco. Meditare su una candela accesa aiuta a rilasciare energie vecchie e stimolare nuove intenzioni. Ora, i cristalli. Quarzo rosa. Aiuta a guarire il cuore, promuovere amore e perdono. Ametista. Purifica e protegge spiritualmente. Citrino. Attrae abbondanza e ottimismo. Utile contro la depressione. Ossidiana nera. Radica e protegge. Scaccia la negatività. Per la routine quotidiana. Dedica tempo a meditazioni brevi con cristalli scelti. Crea uno spazio in casa per i cristalli e oggetti naturali, legati ai tuoi obiettivi di guarigione. Porta i cristalli con te. O mettili come gioielli per beneficiare delle loro energie. Queste abitudini migliorano il benessere emotivo e spirituale, portando a una vita più armoniosa e profondamente connessa con l'universo. Le tecniche di guarigione sonora, la visualizzazione e le comunità di supporto sono essenziali per il benessere emotivo e spirituale. La guarigione sonora, usa vibrazioni di strumenti come ciotole tibetane per rilassare mente e corpo, liberare tensioni e promuovere rilassamento e guarigione interiore, agendo su cellule e centri di vitale energia. La visualizzazione, tramite immaginazione guidata, permette di visualizzare scenari che inducono pace e guarigione, efficace contro ansia e stress. Le comunità di supporto offrono un ambiente sicuro per condividere esperienze, conforto e incoraggiamento, essenziali per la forza interiore e una guarigione profonda. Questi pilastri formano un approccio olistico alla salute, favorendo una connessione profonda con sé e gli altri. Inizia definendo obiettivi smart, specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e temporali. Imposta piccoli traguardi per mantenere la motivazione e percepire progressi. Sviluppa una routine quotidiana con autocura, meditazione, esercizio, dieta equilibrata e sonno adeguato. La costanza è chiave per il benessere emotivo e fisico. Monitora pensieri ed emozioni con l'autoosservazione. Un diario può aiutare a riflettere, riconoscere modelli ricorrenti e valutare i progressi. Cerca il supporto di amici, familiari o gruppi. Condividere esperienze allevia l'isolamento e arricchisce la prospettiva. Sviluppa l'autoguarigione con workshop, libri e podcast per idee nuove e rafforzare l'impegno. Vedi i ritorni di fiamma come opportunità per imparare e migliorare le tue strategie per affrontare le situazioni. celebra ogni successo, anche i più piccoli, per rafforzare l'autostima e rinnovare l'energia. Mantieni l'impegno in queste strategie, per navigare le sfide e rafforzare i progressi verso una guarigione duratura. Ecco il nostro viaggio che si conclude, ma il tuo cammino di guarigione è solo all'inizio. Se hai trovato ispirazione, lascia un mi piace e condividi i tuoi pensieri nei commenti. Non dimenticare di condividere questo video con amici e familiari. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti, ricchi di consigli per il tuo benessere. Vuoi aiutarci a continuare a creare contenuti di qualità? Puoi supportarci semplicemente facendo i tuoi acquisti su Amazon tramite il nostro link di affiliazione in descrizione. A te non costerà nulla in più, ma una piccola percentuale del tuo acquisto ci aiuterà a mantenere il canale attivo e a migliorare i nostri video. Grazie per essere con noi. Continuiamo a crescere e guarire insieme. A presto con un nuovo video. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.